Ciao Panzone, come stai? Ho sbagliato a fare il percorso Sto crepando Davide Valsecchi, campione mondiale di GP2 E commentatore tecnico di Sky Sport Settimana scorsa mi ha chiamato per chiedermi se Volevo fargli da navigatore nel rally di Monza 2019 Dato la introdinamica Per arrivare fino a qui a Milano potete dedurre la mia risposta Oggi è mercoledì 4 dicembre, domani inizia il rally Ringraziamo Danielore che ci presta una cuccia per il weekend Segniamo con i motori blogger E andiamo a letto che domani si inizia a fare sul serio Buongiorno Oggi è il primo giorno del rally di Monza Ci troviamo già in mezzo al traffico milanese 15 chilometri, 40 minuti di strada Ma che bellino, penso di essere arrivato Buongiorno, sono navigatore Sì, cosa devo fare? Devi andare a parcheggiarla, se non hai il working pass Vai dentro quell'ufficio e ti fanno fare il work Grazie Mi, sono navigatore e il working pass Ne ho fare il working pass A te dico mi, working pass Pass fatto Adesso non dobbiamo fare altro che trovare il nostro box Fino a questo punto c'erano tutte quante le carte in regola Per essere un weekend diverso dal solito Al fianco di un campione mondiale come Davide Valsecchi Ma quel giovedì ho capito che fare il navigatore Non significava soltanto sedersi e divertirsi a fianco al pilota Appena arrivato mi vengono spiegati i miei molteplici compiti Iniziando dalle ricognizioni Che inizialmente ho pensato fossero cose da mangiare Ma proseguendo ho capito che erano delle vere e proprie perlustrazioni della pista Adesso noi entraremo con una macchina questa qua stradale Tu devi scrivere su questo libretto qua le note Le note sono quei... Quei delle professoresse? No, non quelle Con una macchina stradale quindi abbiamo esplorato molto lentamente le PS Che non è il post scrittum delle lettere ma è l'acronimo di prova speciale Quella che la prima prova è di PS1 Ok PS sa per prova speciale PS prova speciale A dire la verità la nostra organizzazione non era proprio al top Infatti saremo dovuti già essere a Monza il giorno prima ovvero mercoledì Per fare le prove libere E invece mi ritrovo senza Davide di giovedì mattina A ricognizioni già iniziate insieme a Tommy Che è un grande amico di Valsecchi E dato che a sua volta è un pilota Mi aiuterà a prendere le note Mentre il Valse nazionale torna da un impegno in Inghilterra Adesso siamo in macchina con Tommaso Che è un caro amico di Valsecchi Ciao ragazzi Stiamo andando a prendere Davide perché è appena arrivato da Londra Siamo riusciti anche a recuperare Valsecchi Un Valsecchi ammalato Come potete vedere il mio pilota non è proprio in gran forma Ha 39 di febbre e le peggio malattie nell'apparato respiratorio Ma la cosa positiva è che potevamo procedere insieme nelle ricognizioni E adesso andiamo a fare le ricognizioni Che non ho neanche la più pallida idea di cosa siano Beh ho imparato che PS significa prova speciale Il più popolare compito da navigatore è dare le note al pilota Le note sono delle vere e proprie indicazioni della strada Come quando usiamo Google Maps ma con molti più dettagli e precisazioni Oltre a destra e sinistra si indica con un numero che va da 1 a 5 L'ampiezza della curva Più il numero è basso più la curva è infima Più il numero è alto e più la si può fare a cannone Ad esempio se dico sinistra 2 sto avvertendo che a breve ci sarà una curva molto stretta a sinistra Così il pilota sa già che dovrà frenare molto forte Voi direte Sì ma tanto la vede la strada E poi il Valse è un pilota esperto È quello che ho pensato anch'io finché non mi sono seduto in macchina E mi sono trovato davanti a una chicane dopo una curva cieca ai 150 all'ora Ma c'è anche la possibilità di trovarsi con il buio L'autodromo non è illuminato Non si vede nulla E il più delle volte le barriere utilizzate per fare le curve sono tutte dello stesso colore Non avendo mai seguito il rally non sapevo neanche il discorso di queste note semplici Per dirvi io ero convinto che il numero dopo il destra o sinistra fosse il numero della marcia Procedendo con le ricognizioni imparo anche le congiunzioni Ovvero in per dire che la prossima nota è imminente E per per dire che la prossima nota è una distanza tale da poter pensare e respirare Successivamente troviamo le inversioni che sono quelle con il freno a mano per capirci E i tornanti che sono proprio come quelli della montagna belli larghi 100, 150, 200 Viene detto quando c'è un rettilineo Quindi sia il pilota che il navigatore possono rilassarsi un attimo E con il termine fettine si indica una serie superiore a tre curve Inferiore alle tre curve è una chicane Vi posso assicurare che non ero l'unico in confusione Ad esempio queste sono le prime note che ho segnato Inversione sinistra Inversione minchione Sinistra 90, destra 90 No, chicane sinistra e destra Cazzo scrivo Sinistra e destra Il secondo scopo del navigatore è quello di timbrare l'entrata La partenza, la fine e l'uscita nel giusto minuto E qui sono iniziate le vere e proprie problematiche Tutti mi dicevano una cosa diversa e io non sapevo a chi dare retta Infine sono andato a rubare le informazioni agli altri navigatori e ho capito All'inizio di ogni giorno da venerdì a domenica Ci danno un foglio con l'ora di partenza Molto semplice I minuti a disposizione che avevamo per fare la prova E i minuti che avevamo a disposizione per fare i trasferimenti Per chi non lo sapesse i trasferimenti sono il tratto di strada che c'è dai box fino alla prova speciale Tutto è a tempo Per essere più chiaro possibile vi faccio un esempio pratico Facciamo finta che il primo orario che ci danno la mattina sono le 10 Dovevo calcolare la mia ora di timbratura in base alla lista dei partecipanti che ci precedevano Ogni partecipante vale un minuto E facendo finta che in lista noi siamo i ventesimi Dovevo calcolare le ore 10, l'orario iniziale Più 20 minuti Ovvero i 20 partecipanti che valgono un minuto l'uno Quindi timbro l'entrata alle 10 e 20 Calcolandomi anche il tempo che ci vuole dal box dove ci sono i meccanici all'inizio della prima prova Un 5 minuti prima Una volta entrati in prova speciale bisogna aspettare il proprio turno in base alle esigenze della pista Incidenti, macchine che si spengono eccetera eccetera Una volta che tutto in ordine gli operatori timbrano nuovamente il mio foglio Con l'ora reale dell'inizio della prova Solitariamente tra i 4 e gli 8 minuti dopo Per questo caso facciamo finta che aspettiamo 5 minuti Segnano nell'apposita casella 10 e 20 più i 5 minuti Le 10 e 25 Dalle 10 e 25 dopo un minuto parte la prova speciale Dato solitamente da uno schermetto a led come vedete in queste immagini Finita la prova gli operatori ci segnano il nostro risultato Il tempo che ci abbiamo messo per fare la prova speciale Ma non è finito qui Bisogna timbrare anche l'uscita Sempre nel foglio è indicato il tempo stimato per fare la prova Il tempo stimato naturalmente è uguale per tutti Facciamo finta per questo caso che il tempo stimato sia di 20 minuti Devo quindi calcolare dal tempo reale di entrata Ovvero le 10 e 25 più i 20 minuti Quindi devo timbrare l'uscita alle 10 e 45 Un bel casino lo so Spero di essere stato il più chiaro possibile Ma se non ve lo spiegavo non potevate capire l'ansia Durante questo rally di Monza E calcolate che adesso l'ho fatto con i numeri basici Solitamente non usciva un numero semplice neanche a pagarlo Tipo 17 e 56 più 17 minuti Ma cosa succede se non si timbra correttamente? Se timbra in ritardo paghi 10 secondi Se timbra in anticipo paghi un minuto Si ma ma sei sicuro con lui guarda che non è buono a guidare lui Ciao panzone come stai? Ho sbagliato a fare il percorso L'ho fatto di 300 metri invece che di 8 km Il rally di Monza è suddiviso in 8 prove speciali Ovvero 8 prove a tempo Svolte tra venerdì, sabato e domenica Tutte le PS prove speciali Sono state ingegnate, inventate E costruite tra l'autodromo di Monza E la vecchia sopraelevata Per chi non lo sapesse questo è l'autodromo di Monza E questa è la vecchia sopraelevata Finiamo le ricognizioni e procediamo con le regolazioni dei sedili Che non avevo la più pallida idea di come si facesse Procediamo con la regolazione del sedile Ma devo montare qua dentro? Come fai a regolarmi i sedili? Ah va zio ma quanto stretto è? Come faccio a dirti se è giusto? Si può andare più indietro? Ma devi staccarlo completamente? Cioè quanto devi tribolare? Così sono troppo insaccato no? Io non lo so, non sono mai salito su una macchina da rally Finita la giornata E questa cosa del navigatore mi stava altamente gasando L'ho presa proprio come una sfida Tanto che volevo portare a tutti i costi a termine l'obiettivo A tal punto che la sera stessa Al posto di uscire mi sono segregato in casa A riscrivere le note in bella copia Il venerdì è il primo e vero giorno del rally di Monza Come prima cosa mi vesto adeguato Per correre in macchina bisogna avere gli indumenti ignifughi e certificati Partendo dalla maglietta intima fino ai calzini Alla mattina si parte con gli shakedown Che sarebbero delle prove libere per sistemare al meglio l'auto Anche se il nostro problema più grande era l'influenza del valse Ma che cazzo Ho il catarro nell'orecchia adesso Mi sto crepando Fatte le prime 2-3 prove I primi giretti in macchina Le emozioni sono davvero fortissime L'auto non ha niente a che fare con una vettura stradale Si riesce a percepire qualsiasi cosa l'auto sta facendo in quel momento E con un manico come Davide Vansecchi è tutto più amplificato Nelle prove c'è addirittura un salto E posso assicurarvi che farlo full gas non è proprio una passeggiata Ah e il casco mi stava un po' piccolo Forse un po' tanto piccolo Dato che il microfono mi arrivava al naso invece che alla bocca Finite le prove libere Finiti gli shakedown Faccio il piccolo errore di mangiare E poi inizia finalmente la prima PS Quelli che vedrete sono naturalmente gli highlights Non vi metto tutte quante le prove speciali Se no diventerebbe un video di 3-4 ore e mezza E penso anche molto noioso Che tribolazione Prima prova speciale Non è un velo di tensioncina no? Che ore sono? 27 28 30 noi giusto? Si sono le 28 Comincia che si timbra? Basta che non gli dai il foglio Sei sicuro che è 30 eh? Io no che non sono sicuro Io penso fosse 34 Lei ha scritto e 30 Strano perché dovrebbe esserci 1 e 29 Eh esatto Questo qua è il 6 Ok 30 Era questo che era il ritardo 30 giusto? Si Grande Davide Wuh Sono un po' emozionato Te non te ne frego un cazzo vero? Emozionato no? Non è un po' di tensione Grazie Non parla Grande grande Sì sì È mona Inversione sinistra In inversione destra Attenzione al muro 100 Jump Porca putta È andato come un cazzo eh Cazzo merda Wuh Putta ladrona Sto che roba Com'è andata ragazzo? Porca putta Non siamo andati forte qua? Non so Ah c'ho una costola che mi sta uscendo Porca droia Adesso sì che sei andato forte cazzo È stato divertente guidare eh Che le notte non le hai mai sbagliate eh Ben fatto figa Prima prova conclusa Finiamo trentaquattresimi E iniziamo con la PS2 Io mi chiedo una cosa Partenza della madonna Salto in pieno manetta L'altra parte in pieno Poco perché siamo trentaquattresimi Cazzo applaudi Tu leggevi una nota DJ destra a sinistra Poi era il contrario Anche qua oh Oh Sarebbe anche sconquasto Che cos'è? Dico il culo e mi col cazzo Ha 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 ha